ciao bimbi siamo in primavera oggi vogliamo farvi vedere questo albero meraviglioso dei petali incredibilmente belli però è un albero anche molto delicato perché guardate qui a terra quanti petali ha fatto cadere la bianca oggi ha avuto una brillante idea ripulire il giardino da tutti questi petali per fare felice la sua nonna guardatela ha preso gli attrezzi e via sta ripulendo tutto il giardino e sapete non vuole nemmeno che nessuno l'aiuti ora è arrivata la sua dolce bisnonna a dare una mano a bianca insieme stanno lavorando tantissimo sono tutte concentrate vai guarda che anche leonida ti dà una mano vabbè ti dà una mano così siete più veloci abbiamo pensato di utilizzare una parte dei petali per fare un bel lavoretto un disegno creativo quindi armatevi di queste cose petali di fiore oppure fiorellini scatola di colori e foglio bianco adesso la bianca inizierà il suo disegno creativo buon lavoro bimbi anche la maestra vale si mette all'opera per fare il suo disegno creativo ecco qui un simpatico coniglietto la bellezza della natura è una cosa indescrivibile e vi dà anche tanti spunti per tante meravigliose attività buon divertimento in giardino ciao